Sì, sono molto contento per il passaggio del turno, perché abbiamo lavorato nel migliore dei modi per raggiungere questo importante obiettivo. Adesso sono molto contento per la prestazione dei ragazzi, non spiazze per niente, però spiazze per Xavi e per il Barcelona, che era lì nello spogliatoio a seguire la partita, spiazze per i gobbi, spiazze per tutti i guffi, non spiazze per noi che siamo riusciti a raggiungere questo traguardo e adesso pensiamo alla prossima.